Vengo bene, sei da Dio, con quel cappello lì sei stupendo. Allora, mi hai detto che ti chiami? Io Massimo. Massimo, bene. Prima mi hai detto che in India c'è un... Sì, se i licenziati scoprono qualcosa di nuovo, la mettono a disposizione di tutti, non è che fanno il brevetto per approfittare di questa idea. Ah, ok. Quello è il progresso per me. Ok. La mettono a disposizione di... E che sia accessibile a tutti. E prima quando ti ho detto che io sto lavorando sulle 24 ore e tu mi hai detto una cosa bellissima che non avevo mai sentito, come andare al mercato, mi dici che mettere fuori 24 articoli anziché 12 e vedrai che la gente è più facile che comprare. Vedi di più, c'è più opportunità. Ah, ecco, c'è più varietà. La gente va dove vede un po' di tante cose diverse. Ok, grazie mille. Oh, in Mondovisione, Filippina, Indonesia. Vediamo che qualcuno mi assume. Ciao, ciao, finito.